Una delegazione licatese del comitato Notriv ha preso parte a Roma un incontro legato al referendum. Il gruppo licatese che da tempo si batte contro il decreto sblocca Italia e contro i propositi di trivellazione nel mare del canale di Sicilia è stato inserito nel coordinamento nazionale. A rappresentare il Notriv di Licata nella capitale era presente l'attivista Salvo Graci. Noi abbiamo partecipato come delegazione di Notriv Licata a un'assemblea nazionale del coordinamento nazionale Notriv e abbiamo aderito a questa iniziativa che è preordinata a organizzare sostanzialmente quello che sarà il referendum che porterà, si spera, all'abolizione di questi progetti inseriti nello sblocca Italia che consentono le trivellazioni a largo delle coste italiane. È stato un passaggio molto importante anche per il nostro comitato cittadino perché questo significa poter partecipare attivamente a una mobilitazione di interesse nazionale.